TENENTE WATERS Ormai dovete cavarvela da soli Secondo la CIA, 5.000 ribelli stanno convergendo sulla vostra zona Tutti a terra! Ora, per portare a termine la missione, doveva prendere una tragica decisione Chi porterà in salvo la mia gente? Non sono qui per loro Lei mi ha mentito! Mi è stato ordinato di abbandonare questi profughi Ma io non intendo farlo Non posso farlo Tornate indietro! Ascolti il mio consiglio Completi l'evacuazione secondo i piani Lei sa bene quanto me che fine faranno se li lascio laggiù Questo non è compito suo E tra il dovere e la morte Scelse il coraggio Porteremo a termine la missione Aspettate il mio segnale! Fuoco! Fiamo! Andiamo! Grazie a tutti.